Ciao a tutti e benvenuti. In questo video rispondo a una domanda, a una richiesta di Anna che saluto, ciao Anna, la quale mi chiede se posso far vedere meglio un'immagine del libro che ha visto in un video precedente riguardo ad alzare il macellare superiore, il palato superiore nella tecnica a sorriso. Io ripeto, queste sono video risposte non applicate in maniera indistinta pensando che poi voi cantate bene perché non si impara da video pur belli che siano o da libri pur belli che siano, si può capire a livello concettuale ma bisogna essere seguiti e fare un percorso di educazione vocale perché la pratica è la cosa migliore, ognuno di noi è fatto in modo diverso e durante gli incontri si trovano delle strategie che sono proprio adatte alla singola persona. Detto questo comunque volentieri ti faccio rivedere, presumo sia questa l'immagine che tu mi hai chiesto, eccola qua, che cosa dicevo in questa immagine fondamentalmente? Di alzare il macellare superiore, quindi pensare, questa è la mandibola, questa è la macella superiore, quindi pensare di alzare proprio questa zona, pensare a due piani, un piano A che è il nostro palato e un piano B che è la parte alta del palato e quindi di alzare questa parte, sono immagini mentali chiaramente. Cosa accade nel pensare anche soltanto di alzare il macellare superiore? Si crea molto spazio anche soltanto se voi fate questo gesto, è come il gesto di mordere dolcemente una mela, questo si crea quello spazio interiore, il famoso palato molle che si alza tutto il palato, non soltanto il palato molle perché non è possibile isolare soltanto quella parte, ma tutto il palato prende questa forma molto ampia e alta, quindi mantenere il mento morbido, rilassato ma non troppo giù, questo serve per altri aspetti nel canto, ma questo sentirete che voi alzate proprio il macellare superiore, in questo modo la posizione del suono si alza, il suono fa il cosiddetto giro della voce, va in avanti, bisogna però lavorare anche sulla proiezione, sul focus, non è soltanto questo elemento che risolve il problema, è uno degli elementi da curare. Un altro aspetto è quello che mi hai chiesto, hai paura che sorridendo e sorridendo tu senti che la voce si schiaccia, io non ti sento, è difficile capire che cosa avviene. In linea generale, questo dolce sorriso interiore, se fatto con gli zigomi, alti, tutto quello che abbiamo detto riguardo la tecnica sorriso, difficilmente se fatto bene porta a schiacciare la voce. Nel salire alle note più acute, però non si può tenere la vocale proprio così chiara, bisogna imparare piano piano, almeno che non si voglia cantare in un belting o avere delle voci molto pressate, quando si va troppo in alto mantenendo questa voce di petto fondamentalmente molto molto schiarita, molto appunto chiara, bisogna imparare poi piano piano a mixare come si suol dire il suono, ovvero fare in modo che la voce acquisti anche delle consonanze di testa o risonanze di testa come si diceva ai miei tempi. Quindi come si fa questo? Mantenendo questa idea di suono puro ma arrotondando il suono. Cosa significa? Utilizzando delle vocali foneticamente più chiuse. La i diventa una i, la e diventa e, o diventa o. Questo significa poi salendo fare in modo che la nostra voce non vada indietro ma resti in avanti con una consonanza di testa. Comunque questi sono aspetti tecnici un po' articolati. Adesso ti ho dato una spiegazione molto veloce appunto come mi hai chiesto, molto volentieri, ma ti consiglio di parlarne con il tuo insegnante o con la tua insegnante se sei seguita o nel caso di farti seguire perché questi aspetti sono appunto da fare seguiti da una guida con un insegnante. Va bene, spero potuto offrire una risposta a te valida, utile. Ti mando un saluto e a presto. Ciao!